qual è stata l'evoluzione della grafica del retro delle carte di flash and blood da quale punto di partenza ha avuto tutto inizio e dopo quanti tentativi sono arrivati i signori della lss al risultato che tutti noi oggi conosciamo nel video di oggi troverete la risposta a queste domande signori bentornati sul canale con il nostro consueto appuntamento settimanale ogni volta che si prende in mano una carta qualsiasi ci si fa poco caso ma come già abbiamo visto in precedenti contenuti qui sul canale prima di essere giocata in un match ogni elemento passa attraverso una serie di compartimenti ben specifici dove per ogni settore una parte di esso prende forma disegno testo artwork e quanti più fattori possibili convergono assieme per dare vita a quella determinata carta che in quel momento della partita fa parte del vostro deck e che passaggio dopo passaggio è arrivata in qualche modo tra le vostre mani per essere impiegata in scontri reboanti e pieni di colpi di scena ma la domanda che sorge spontanea a questo punto potrebbe essere va bene sì la parte frontale della carta sì e invece il retro perché nessuno mai si preoccupa del dorso qual è la storia che orbita attorno a questi elementi di riconoscimento che a prima vista catalogano una carta sotto la campana di uno specifico tcg ed è qui che flash and blood interviene rispondendo alla domanda proponendo la sua personale storia prima di iniziare se volete acquistare i prodotti del vostro gioco di carte preferito o gli accessori che renderanno unica la vostra esperienza ludica vi consiglio di visitare fantasia store dove troverete un catalogo fornitissimo di prodotti pronti a soddisfare ogni vostra singola richiesta in descrizione troverete il mio referral link che potrete utilizzare per i vostri acquisti in più per ogni acquisto che farete potrete beneficiare anche di un ulteriore sconto del 5 per cento su ogni carrello ogni volta che vorrete inserendo il codice crogiolo 5 utilizzando il referral link aiuterete anche il canale a portare sempre nuovi contenuti innovativi che tratteranno argomenti riguardanti i vari gcc e se effettuerete l'ordine entro mezzogiorno la consegna sarà a casa vostra in 24 48 ore cosa state aspettando se cercate i migliori articoli fantasia store sarà la risposta in più volevo invitarvi ad iscrivervi al canale dato che molti di voi guardano i video dell'arconte del crogiolo ma non avete ancora cliccato sul pulsante iscriviti pensate che se tutti voi lo faceste ora potremmo raggiungere oltre i 10.000 utenti quindi il vostro supporto è fondamentale datemi una mano a far crescere la community basta un singolo click ed ora scopriamo assieme quali sono stati i processi di creazione che hanno visto il retro di ogni carta di flash and blood prendere forma andiamo a dargli un'occhiata come tutto ha preso forma una delle caratteristiche più rappresentative di ogni tcg è di sicuro il dorso di ogni carta presente in gioco in effetti il car back rappresenta a pieno l'essenza del gcc di riferimento che in alcuni casi rimane minimale vedasi i grandi tre come magic the gathering pokemon e yugioh che a forza di calcare il mercato da un ventennio forse più sono oramai riconoscibili in ogni dove e chi invece tende a mostrare qualche dettaglio in più andando a proporre concetti fondamentali presenti nel gioco stesso come per keyforge per flash and blood l'idea iniziale era proprio quella di creare qualcosa di semplice e dallo stesso tempo di impatto che rimanesse impresso nella mente del consumatore nel modo più veloce possibile i signori della lss sapevano già dal principio di voler rappresentare le otto regioni presenti sul reit direttamente sulla parte dorsale della carta e come esperimento iniziale hanno creato una sottile filigrana dove tutte le nazioni fossero concatenate tra esse includendo inoltre un codice colore per rappresentare al meglio ogni territorio al lavoro ultimato però si resero ben presto conto che il risultato si presentava disorganizzato e poco performante nel catturare l'attenzione dei giocatori quindi facendo dietro front sono tornati alla singola tonalità ma qualcosa ancora non andava la grafica generale sembrava davvero molto spoglia ed insignificante così iniziarono a ragionare sul fatto che forse era meglio abbandonare l'idea bordi esplorando il concetto di illustrazioni complesse conferendo una vera identità al gioco inserendo elementi che però nell'insieme non sarebbero andati a sovrastarsi tra loro funzionale per raccontare una storia funzionale anche per quanto riguarda dare carattere alla carta stessa e così provando e trovando una serie di colori che nell'insieme permettevano di esaltare il logo del gioco il viaggio verso il retro che tutti noi oggi conosciamo ha avuto ufficialmente inizio la strada era quella giusta dopo vari esperimenti che ritraevano filigrane di colori diverse per la trama di sfondo delle tematiche hanno attratto l'attenzione dei designer la pergamena permise loro l'utilizzo di inchiostri per la stampa di color marrone oro e nero andando a creare una trama vecchia come se si parlasse di un tomo consumato ma alla fine si resero conto anche in questo caso che l'effetto vecchio non si sposava proprio bene con un gcc dato che conferiva un aspetto trasandato a tutte le carte nel complessivo anche quelle appena acquistate o sbustate e quindi no niente da fare bisognava trovare un'alternativa la seconda fu un tema roccioso che però non si sposava bene con il logo dato che sembrava troppo un miscuglio di immagini messe lì a caso e quindi scartata anche questa ennesima idea sperimentarono uno stile più fresco evitando di far sembrare ogni carta invecchiata col tempo ed automaticamente meno interessante per l'acquirente utilizzando varie ombreggiature e mettendo in risalto diversi aspetti del dorso alla fine tre furono i risultati che portarono la lss a modificare qualche stile di colore eliminare le precedenti ombreggiature per arrivare infine alla grafica definitiva che è presente su ogni dorso di qualsiasi carta che tutti i combattenti su raid conoscono e così come abbiamo visto non è stato di certo un processo semplice ma come ogni articolo di qualità che si rispetti ha dovuto attraversare delle fasi che alla fine del tragitto hanno fatto combaciare ogni fattore nel migliore dei modi assegnando a flash and blood la sua personale identità se vorrete leggere da voi la storia che ha ispirato la creazione di questo video e scoprire ogni singolo passaggio che ha portato alla luce il tratto distintivo di fab come sempre in descrizione troverete il link all'articolo scritto niente di meno che da nicola price in persona e voi siete soddisfatti del lavoro che ha svolto la lss con la creazione del card back per il suo tcg come sempre fatemelo sapere nei commenti mi auguro che questo video sia stato di vostro gradimento prima di salutarci vi invito a cliccare qui a sinistra se vorrete scoprire altri contenuti interessanti legati al mondo dei tcg vi ringrazio di essere stati in mia compagnia noi ci vediamo al prossimo video ciao 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 ciao